Grazie Presidente. Ci troviamo a intervenire su un disegno di legge di importanza fondamentale per il nostro Paese, eppure in un momento di grande incertezza su quello che sarà effettivamente il contenuto di questo disegno di legge. Però è un disegno di legge che era destinato quantomeno a rappresentare una sorta di rivoluzione. Una rivoluzione che io credo in un certo senso è stata un po' l'anima, la ragion d'essere, il motivo per il quale il Movimento 5 Stelle è nato. Lo ricordiamo tutti quanti benissimo, quando il Movimento 5 Stelle è arrivato in Parlamento, la relatrice e io abbiamo debuttato negli stessi giorni, l'arrivo di questo gruppo nutrito di giovani parlamentari serviva ad aprire quest'aula come una scatoletta di tonno. Ricordo che i nostri colleghi del Movimento 5 Stelle all'epoca dicevano non chiamateci onorevoli, noi non siamo deputati, noi siamo portavoce. Ricordo una mia discussione fuori proprio qui in piazza con il Presidente Fico, nel quale cercavo di spiegargli che il Parlamento si chiamava così perché era un posto dove ci si parlava, dove i deputati erano mandati per rappresentare certamente il popolo che li aveva eletti, ma forti di una volontà politica propria e individuale e che quello che era l'obiettivo poi era di rendere il conto del proprio operato al corpo elettorale che li aveva mandati qui. Invece il Movimento 5 Stelle aveva un'altra idea, all'idea che le persone che venivano a sedere in quest'aula in realtà fossero dei meri strumenti, dei portavoce, degli altoparlanti, cioè persone prive di una propria volontà, di una propria visione, di una propria capacità di decidere e che dovevano ricevere di volta in volta l'input da questa fantomatica rete, dico fantomatica perché poi ovviamente non si trattava di persone che erano state elette con milioni di like o di click, talvolta sono diventati parlamentari anche autorevoli, penso al Vice Presidente Di Maio, persone che hanno avuto 24-25 click sulla rete ed arrivavano qui come meri nunzi, come meri strumenti di una volontà esterna. Ricordo ancora una discussione in televisione con la Ministra Lezzi, eravamo in una di quelle trasmissioni notturne che guardano in pochi gli aficionados della politica e si parlava di leggi elettorali, quindi io provai a spiegare qual era la nostra visione, che cosa cercavamo di fare, ricordate tutti che dovevamo cambiare la legge elettorale anche in forza di una sentenza della Corte Costituzionale, ricordo il candore con il quale Barbara Lezzi disse ma io in realtà non ho niente da dire perché non ho ancora interrogato la rete e quindi francamente non so che dire. Io ho rimasto anche un po' stupito perché gli dissi scusi Onorevolezzi mi faccia capire bene ma a lei qui che l'hanno mandato a fare, cioè se lei non ha una sua visione, se non ha una sua posizione o non è in grado di esprimere una posizione nel suo partito, io mi chiedo effettivamente a lei cosa ci stia a fare. Ricordo questi episodi che sembrano ormai del giurassico ma in realtà parliamo soltanto di qualche anno fa perché io penso che l'inversione a U di cui oggi la relatrice ci ha parlato e gli emendamenti che sono stati presentati rappresentano secondo me un significativo, direi uno storico cambiamento di posizione rispetto alla, dico non soltanto alle posizioni del Movimento 5 Stelle, sottolineo alla ragione d'essere del Movimento 5 Stelle in un certo senso mi viene quasi da dire benvenuti nel campo della democrazia rappresentativa, benvenuti nel club perché diciamo il Movimento 5 Stelle ha, lo ricordo perché io penso che sia molto significativo, ci ha dato un ministro dei rapporti col Parlamento e della democrazia diretta. Quasi proprio a sottolineare come il passaggio, quindi lo svuotamento, l'apertura della scatoletta di tonno, lo svuotamento del senso della democrazia rappresentativa era come dire il core business, la ragione effettiva per la quale il Movimento 5 Stelle nasceva. Appunto, pensate al paradosso di avere una, anzi due camere elette, quindi due camere, specchio della democrazia rappresentativa che danno la fiducia a un ministro che si chiama ministro della democrazia diretta, viene da dire ma che vuoi da noi, cioè perché ci viene a chiedere la fiducia se tu sei il ministro della democrazia diretta, perché mai, perché diavolo, vieni a chiedere la fiducia a persone che stanno qui per rappresentare la democrazia rappresentativa. E il senso di questo, diciamo, di questo approccio, di questo atteggiamento rispetto alla democrazia, quello che io chiamo il grande inganno della democrazia diretta, in realtà dove vuole arrivare? Che cosa vuole ottenere? Vuole ottenere, di fatto, il passaggio della sovranità popolare da questi luoghi a un altro luogo. Di fatto è così, noi lo abbiamo visto benissimo durante l'iter di approvazione della legge di bilancio. Si è preso il Parlamento e si è detto tu, caro Parlamento, o ci sei o non ci sei è uguale, perché la legge di bilancio, noi la scriviamo, diciamo così, l'ultima versione, la scriviamo a Palazzo Chigi con input di vario genere, dopodiché, cari signori parlamentari, alzate la manina, premete il bottoncino, avete due minuti per leggere, per dire sì o no, andate a casa, tanto la legge, così come è stata scritta dal Governo, proprio in modo uguale, esce dal Parlamento come appunto, come se nulla fosse successo e di fatto siamo di fronte alla prima legge di bilancio nella storia scritta dal Governo, al punto tale che la Corte Costituzionale, addita dal gruppo del parlamentare del PD, dice non succeda mai più, anzi, ci dice, cari signori parlamentari, guardate che voi avete delle prerogative, dei diritti, voi rappresentate la nazione e se qualcuno mai si azzarderà in futuro a dimenticarsi del ruolo, della rappresentatività del Parlamento, della sua natura, di luogo, di casa, di anima della Repubblica, della democrazia, la Corte Costituzionale ci dice, basterà ciascuno di voi, basterà Scalfarotto, basterà l'onorevole Santelli che prima diceva che si sente piccola in quest'Aula, bene, onorevole Santelli, lei non è piccola, in genere e in particolare in questo caso evidentemente lei, la sua grandezza come persona e come rappresentante del popolo viene riconosciuta addirittura dalla Corte Costituzionale, vale per Scalfarotto e Santelli, vale naturalmente per tutti quanti gli altri. Ma l'idea è proprio quella appunto di superare il ruolo della Camera, l'idea è quella di dire il popolo di fatto della Camera non ha bisogno, il popolo del Parlamento non ha bisogno, il popolo si esprime da solo e guardate qui c'è un'altra insidia molto 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 ficcante, molto pericolosa e sta proprio seduta dentro l'idea del popolo. Perché a che cosa serve una Camera come questa? Perché qui dentro siamo 630? Perché il Costituente, come accade in tutte le democrazie rappresentative, ci dice che il popolo è diverso al suo interno, che non esiste una volontà autonoma, unica, granitica di un'entità chiamata popolo. Esistono i cittadini, esistono le cittadine che la pensano ciascuno diversamente dall'altro. E il Costituente ci dice, io provo a rispecchiare le differenze della società, uomini e donne, gente che lavora e gente che cerca lavoro, giovani e anziani, persone con disabilità e persone che non ce l'hanno, persone di vario orientamento sessuale, di varie regioni, di varia cultura, di varia inquadrabile in una categoria denominata popolo. E lo sapete perché? Perché quando io dico che il popolo è uno, per rappresentare la sua volontà mi basta uno. Mi basta uno. Le peggiori dittature del mondo si chiamano Repubblica Popolari. O addirittura Repubblica Democratica, Repubblica Democratica tedesca, Repubblica Popolare cinese. A Pechino c'è la grande sala del popolo dove si tengono le celebrazioni. Perché per il governo cinese rappresentare il popolo cinese basta un solo partito perché tanto il popolo è uno e basta un solo segretario perché tanto il popolo è uno. Ma noi non siamo uno. Assolutamente no. E non vogliamo esserlo. E quindi è questo che mi preoccupa. Mi preoccupa il fatto che il 5 Stelle individui un popolo perché è sinistramente coerente a quella frase che scappò dal senfuggita Beppe Grillo che quando ebbe il grande successo del 2013 disse ma io non voglio il 20%, il 25%, io voglio il 100% dei parlamentari, disse Grillo. E quello pensava. E questo disegno di legge è niente di meno, niente di più e niente di meno che la realizzazione pratica di un disegno politico evidentemente espresso, formulato da Beppe Grillo. Non è mica una sorpresa. Questo non è un disegno di legge che viene fuori a sorpresa. Ripeto, se ci avete dato un ministro della democrazia diretta vuol dire che era quello che volevate fare. E quindi che cosa succede? Che quando il popolo è uno, qualsiasi cosa che si frapponga alla volontà del popolo va spazzata via dalla forza rivoluzionaria del movimento. Chiunque, se il Presidente della Repubblica osa dire, scusate ma i ministri li nomino io, c'è scritto nella carta costituzionale, non fa il passacarte il Presidente della Repubblica. La Costituzione dice che lui nomina il Presidente del Consiglio su proposta di questi i ministri ma non come la dattilografa che prepara la lista o il segretario che telefona al capo e dice beh, è così. Il Presidente della Repubblica nella scelta dei ministri e del Presidente del Consiglio esercita delle prerogative costituzionali che sono tutt'altro che formali. E quando il Presidente della Repubblica soltanto pochi mesi fa ha fatto tranquillamente osservare che esistevano dei principi costituzionali che egli era obbligato a tutelare, per esempio il risparmio degli italiani, e che questo suo compito di difendere quei valori costituzionali gli imponeva di dire la sua nella scelta del Presidente del Consiglio e dei ministri della Repubblica, non si è esitato a chiedere la messa in stato di accusa per il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Guardate che queste non sono noccioline, non sono banalità, non sono fatti di cronaca spicciola. Questa sarà storia del nostro Paese. Un partito di maggioranza, anzi il partito di maggioranza relativa che nella persona del suo capo politico minaccia il Presidente della Repubblica perché si frappone alla volontà popolare, all'esecuzione della volontà popolare. Come se il popolo fosse uno. È la stessa cosa che fa il Ministro dell'Interno, Vice Presidente del Consiglio anche lui, quando dice io ho con me 60 milioni di italiani. No, caro Ministro Salvini, lei ne ha molti di meno, ma mai avrà 60 milioni di italiani. Posso già garantirle personalmente che saranno al massimo 59 milioni, 999 mila, 99 milioni, perché a me non mi avrà, diciamo così, ma penso di poter parlare per molti altri. E allora quando si dice io ho con me 60 milioni di italiani, si intende che la volontà appunto di tutto quel popolo sia espressa da uno soltanto e quindi che il resto vada spazzato via. Come infatti si viene spazzati via in questo Paese anche quando si ricoprono incarichi di responsabilità in autorità di garanzia che devono essere indipendenti. voglio ricordare che il Presidente della Consob, cioè il Presidente dell'autorità garante dei mercati, si è dimesso dal suo ruolo perché, lo ha detto lui stesso, sfiduciato politicamente. I capigruppo dei partiti di maggioranza lo hanno sfiduciato. Quindi noi non abbiamo considerato la sua indipendenza, la sua imparzialità come un valore, ma lo abbiamo mandato via perché non prono alle volontà del popolo, di quell'unico popolo che questi partiti pensano interpretare tutto insieme. Viene quasi da dire perché ci sono due partiti in maggioranza, ne basterebbe uno solo. Abbiamo addirittura provato ad asservire alla volontà di questo fantomatico popolo la scienza, la scienza signori, cari colleghi e cari colleghe, la scienza. Abbiamo mandato via il direttore, il capo dell'Agenzia Spaziale Italiana, dalla sera alla mattina, uno che si occupa di razzi, di vettori, di altissima tecnologia spaziale mandato via. Non si capisce perché non rappresentava il popolo. Si capisce nella Cambogia di Pol Pot, si capisce in Corea del Nord, ma francamente in Italia si fa fatica a capire. Si frapponevano probabilmente alla volontà del popolo i medici dell'Istituto Superiore di Sanità, che la nostra collega Presidente della Commissione Affari Sociali ha schedato per opinione politica. Il Presidente Ricciardi, che è andato via dicendo che la scienza in questo Paese si tenta di assoggettarla alla volontà di questo famoso popolo. Popolo che, badate bene, è naturalmente vessato, umiliato e messo in condizioni difficili da chi? Ma da noi colleghi, chiaramente, da la casta. Chi sono coloro, chi sono la fonte di tutti i guai? Come se questa Camera fosse la Camera del primo e il secondo Stato e ci fosse poi la pallacorda, aspettassimo la rivoluzione? Siamo noi. Quando il Movimento 5 Stelle è in difficoltà e non sa che pesci prendere, che cosa fa? Si ricorda degli stipendi dei parlamentari, perché naturalmente chi è che affamma il popolo? Ragazzi, siamo noi, evidentemente siamo qui. Dato che siamo inutili e che questa cosa si può chiudere, non si capisce per quale motivo, veniamo pagati. Non è dato sapere. Pensate che oggi, sui principali social media, potete trovare lo stipendio del Presidente Juncker e lo stipendio della Vicepresidente Mogherini, che sono stati resi pubblici dagli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, perché ovviamente gli affamatori del popolo in Italia siamo noi, gli affamatori del popolo in Europa chi può essere? Il Parlamento europeo, naturalmente, quello eletto a suffraggio universale. Quando lo leggeremo sulla piattaforma Russo, tutto questo sarà evidentemente molto più in linea con i desiderata del popolo. Allora, guardate, tutto questo è un inganno e prima la collega Santelli lo diceva. Parlare di una contrapposizione di questo palazzo con la piazza vuol dire introdurre un elemento, introdurre un virus, un baco, che è evidentemente estremamente pericoloso. Il concetto che deve passare e un lavoro importante sull'etica politica dovrebbe portarci lì è assicurare la piena rappresentatività di quest'aula del popolo che c'è fuori. Cioè il popolo non è una cosa che si contrappone alle persone che stanno qui dentro e se così è mai stato è un problema. Io condivido il fatto che il rinnovamento della politica, per esempio, sia stato un tema che avevamo all'ordine del giorno. La gerontocrazia, l'assenza di rappresentanza femminile. Per questo dicevo all'onorevole Santelli che qui dentro nessuno è piccolo e che il contributo di ciascuno è importante. Proprio perché abbiamo visto in questi anni un rinnovamento, facce nuove, più giovani, un numero maggiore di donne e questo dobbiamo continuare a farlo. Ma dobbiamo continuare a farlo facendo un lavoro insieme che è proprio quello di assicurare il massimo dell'apertura di quest'aula e del rapporto tra cittadini e parlamentari. Avremo raggiunto lo Stato ideale quando il cittadino non si sentirà cosa diversa da noi, ma si sentirà uno che qui potrebbe essere nella prossima legislatura e anzi in questo senso il Movimento 5 Stelle va dato atto di aver portato tante persone che magari non avevano mai fatto politica prima. Devo dire, lo si può dare anche al Partito Democratico perché anche noi siamo stati profondamente rinnovati come compagine, ma credo che in realtà poi al di là delle differenze tra partiti questo valga un po' per tutti. Però questo dovrebbe essere l'obiettivo. L'obiettivo non deve essere dire guardate c'è una casta che vi affama, perché lì noi facciamo ammalare immediatamente la democrazia e questo non è un lavoro da statisti e non è neanche un lavoro da rivoluzionari, è un lavoro da apprendisti stregoni perché poi alla fine le cose ti scoppiano in mano. Guardate, l'Europa è piccola, tanti di noi conoscono la Gran Bretagna, io ho avuto l'avventura di viverci, di lavorarci per molti anni, ma lì noi abbiamo l'esempio classico di come lo strumento referendario utilizzato malamente, utilizzato in modo poco accorto, utilizzato dalla politica che abdica ad assumersi le sue responsabilità e quindi a esercitare il suo dovere di decidere come un referendum può mettere un paese in ginocchio. Il referendum sulla Brexit è stato una sorta di, come dire, guaio politico, di polpettone, di disastro politico, perché qualcuno che doveva esercitare un ruolo di responsabilità ha deciso di demandare al popolo una decisione che era sua ed era sua perché la complessità, a che cosa servono le Camere? A dare risposte complesse a problemi complessi. In questo secolo non esiste praticamente nulla a cui si possa dire sì o no è risolta la questione, perché la complessità delle cose che noi ci troviamo a gestire richiedono lavoro, richiedono pazienza, richiedono comprendere che non esiste una soluzione giusta e una sbagliata, che è la nostra maledizione e che noi non potremmo mai andare dai nostri lettori e dire avevo la soluzione ideale in tasca, perché chi lo fa parte sconfitto in partenza. Io dico spesso che il vicepresidente Di Maio ha la formula radar, bacchetta magica è fungo atomico, dove il radar è trovare un problema, la bacchetta magica è toh, c'è una soluzione così facile come mai nessuno ci ha pensato prima. Poi prende la decisione e c'è il fungo atomico perché naturalmente la decisione non l'ha mai presa nessuno prima, caro vicepresidente Di Maio, perché era sbagliata. Se lei dice ho tanti precari, facciamo una bella legge che rende i contratti a tempo determinato più difficili, come mai nessuno ci ha pensato prima, la gente come leggiamo sui giornali resta a casa perché il decreto dignità ha prodotto disoccupazione. Caro Di Maio, nessuno aveva preso la sua soluzione che le sembrava così semplice perché la soluzione era sbagliata, perché non esistono soluzioni semplici e allora dato che non esistono soluzioni semplici noi ci incontriamo qua dentro, lavoriamo duramente, vorrei che i nostri colleghi del Movimento 5 Stelle lo riconoscessero e lo comunicassero, cerchiamo di trovare qual è il punto di caduta come ha fatto molto bene oggi la relatrice onorevole Dadone, per cercare quale sia il punto di caduta in un mondo così complicato per trovare la soluzione che più si avvicina al bene del Paese. Questo è quello che noi siamo qui a fare. Allora, quando tu invece dici ma facciamo un referendum, o sì o no, noi abbiamo dato il potere al popolo. Guardate, questo è un inganno, è un grande inganno, il grande inganno della democrazia diretta, perché la democrazia diretta, cioè dare la possibilità al cittadino di dire sì o no, dà forse l'impressione in quel momento che il cittadino è lui che decide o lei che decide, ma la verità è che il cittadino naturalmente prenderà quella decisione, ovviamente informandosi come può e varrebbe la pena di parlare anche al diritto all'informazione in questo Paese, perché voglio ricordare che questo è il Paese nel quale autorevoli rappresentanti del Movimento 5 Stelle chiamano i giornalisti pennivendoli o prostitute, o il Paese nel quale ai giornali, alle radio, come Radio Radicale, si tagliano i fondi affinché chiudano. E noi sappiamo benissimo quanto è importante il poter farsi un'opinione per poter non soltanto votare come atto automatico, ma per poter votare come atto di conclusione di un processo di formazione di una volontà, processo che deve condurre una decisione matura. E allora il grande inganno dov'è? Sta nel fatto, e anche nella legge che propone l'On. Dadone e soprattutto nella sua versione iniziale. Ora, vogliamo far credere al signor Mario di Manfredonia o alla signora Giovanna di Castelfranco Veneto che saranno loro a fare il comitato referendario che raccoglie 500.000 firme e che si costituisce come potere dello Stato perché di questo si trattava? Ma è evidente che no. Ma è evidente che no. È chiaro che per poter mettere insieme 500.000 firme, i banchetti necessari, le autentiche notarili e quant'altro, ci saranno chiaramente dei gruppi dotati di mezzi finanziari e di capacità organizzative che vadano a raccogliere quelle 500.000 firme. e la povera signora Maria, il signor Mario, la signora Giovanna di rispettivamente Manfredonia e Castelfranco Veneto, saranno soltanto l'ultimo anello di una catena che darà loro sostanzialmente certo la possibilità di mettere il loro granellino ma su una montagna che non hanno né costruito e né controlleranno. Se mi fate tornare all'esempio della Brexit che facevo prima, guardate che la decisione di votare Brexit, di votare quindi per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, è stata basata anche, non dirò in larga parte, ma anche, da una proposizione portata su tutti i media che con l'uscita dell'Unione Europea la Gran Bretagna avrebbe guadagnato 350 milioni di sterline alla settimana per il servizio sanitario nazionale. Peccato che Nigel Farage, tra l'altro non è un caso, alleato nel gruppo parlamentare di Strasburgo di Bruxelles, del Movimento 5 Stelle, il giorno dopo del referendum va in televisione e dice oh oh, mi dicono che ho sbagliato. In realtà non è così. E sono passati due anni, quasi due anni, 22 mesi da quel momento e la Gran Bretagna è ancora in quella situazione perché la politica non ha fatto il suo mestiere. Ora io voglio essere molto molto chiaro, in nessun momento io penso che la democrazia partecipata sia sbagliata o penso che noi non dobbiamo andare verso maggiori forme di rappresentatività e di partecipazione popolare. Voglio ricordare che la riforma costituzionale del 2016 prevedeva che le proposte di legge e di iniziativa popolare che praticamente non è mai arrivata una in porto di sola iniziativa popolare nella Repubblica diciamo da 48 a oggi nessuna è arrivata in porto di pura iniziativa popolare. Penso un paio soltanto associate, diciamo, combinate ad altre iniziativa parlamentare. Nella nostra riforma costituzionale si diceva che bastavano 150.000 firme per obbligare il Parlamento a esaminare la proposta di legge. Oggi sono 50.000 ma il Parlamento può non considerarle. Nella riforma costituzionale del 2016 si diceva no, aumentiamo un pochino il numero per fare in modo che non ci sia un'esagerazione di proposte. Però con 150.000, che è migliorativa dal punto di vista della partecipazione popolare della proposta di cui è relatrice l'onorevole Dadone, la Camera è obbligata, ovviamente poi può modificarla, può provarla, può respingerla, però deve tenerne conto. Nella riforma del 2016 introduciamo i referendum propositivi. Quindi lungi da me dire che noi non vogliamo un maggior coinvolgimento popolare come correttivo, come arricchimento. In alcuni momenti, oggi, sempre la persona che ha parlato prima di me, l'onorevole Santelli, l'ha giustamente ricordato, alcuni referendum che hanno fatto la storia della politica del nostro Paese, il referendum sul divorzio, il referendum sull'aborto, sono stati anche passaggi di grandissimo coinvolgimento dal punto di vista del dibattito pubblico, dove le famiglie si sono divise, hanno discusso, dove il Paese non parlava d'altro. Per cui va benissimo ed è giusto andare in quella direzione. Però non si può neanche pensare di fare cose come quelle che abbiamo visto dentro a questo progetto di legge. Io sono ben contento del fatto che l'onorevole Dadone e la maggioranza si siano ravveduti, ma il solo pensiero di dire c'è la legge del Parlamento, la legge del popolo, come se il Parlamento fosse appunto il clero e la nobiltà, non si sa, veramente non si capisce, fosse Versailles qui? Non si capisce. Significa mettere la benzina e poi anche la scintilla per creare una sorta di rivolta. Ma è completamente sbagliato. E guardi, onorevole Dadone, tramite il Presidente, se posso dire alla relatrice tramite il Presidente, attenzione ancora ai limiti, attenzione ai limiti di materia, perché quello è un tema ancora estremamente, estremamente importante e delicato. Perché nel momento in cui noi andiamo a dire davvero volete Gesù o volete Barabba, cioè la materia penale, quando andiamo a parlare della sanzione penale e consentiamo al popolo di prendere una decisione senza che ci sia una camera di compensazione, questa, è un po' come dire ai parenti di una vittima che cosa vogliono fare del reo. Che cos'è il Tribunale? Il Tribunale è quella camera di compensazione che in un Paese civile separa il reo dalle parti civili e pronuncia sentenze in nome del popolo italiano. Quindi cosa fa il popolo italiano rappresentato in quel caso dal potere giudiziario? Si frappone tra il reo e le parti civili, diciamo le vittime, e prende una decisione che non è quella della legge del taglione. Allora, se noi non capiamo la gravità che sta dentro a una proposta che ci dice che si può introdurre la tortura, non so, ovviamente abbiamo messo per fortuna il controllo di costituzionalità, però vede un ripetatore tramite il Presidente, non è che le dicevamo cose peregrine, eravamo preoccupati per cose di sostanza sempre tramite il Presidente, perché è importante che noi facciamo in modo che non solletichiamo, tutti abbiamo una pancia, ce l'ha anche gli organismi collettivi, diciamo così. Dobbiamo fare appello, se vogliamo una vita pacificata e una comunità ricca e prospera e democratica, provare a far parlare gli adulti che sono in noi, come si dice in analisi transazionale. Se mettiamo a far parlare il bambino che è in noi con l'altro bambino, alla fine ci si prende a botte come nel cortile durante l'ora di ricreazione. Allora, quello che noi dovremmo fare come forze politiche responsabili è quello di provare a dire all'adulto che sta dentro ciascuno di noi e anche al soggetto collettivo che è la nostra comunità nazionale, che le decisioni vanno prese qui, con la testa, cercando di capire cosa è bene per tutti e capendo che talvolta, proprio perché si è parte in causa, si deve fare un passo indietro e si deve delegare, come si delega al giudice, una decisione che è giusto che sia presa con la pacatezza, la ponderazione che soltanto un'assemblea come questa può assicurare. Allora, io mi rendo conto di aver usato molto tempo, però le dico la verità, per me questo insegno legge era un po' una sorta di chiave di volta di questa legislatura, perché qui si giocava davvero la natura della nostra democrazia e se posso dire, ho sentito spesso paragonare questa riforma alla riforma del 2016, in cui si è detto, ma insomma avete provato a cambiare la Costituzione così ampiamente, ma la riforma del 2016 non ha mai provato, ha provato a modernare dei meccanismi, ma i meccanismi non sono stati mai snaturati, si ammodernava, si cercava di chiarire alcune complessità, alcune contraddizioni, penso al titolo quinto, penso al tema del bicameralismo paritario, ma per esempio non si toccò nulla, nessuna parte della Costituzione, la parte della Costituzione destinata alla magistratura non fu toccata, non furono toccati i poteri del Presidente del Consiglio, la democrazia rappresentativa restava tale, in forme secondo me più moderne e più in linea con le necessità che abbiamo di prendere delle decisioni, ma in questo caso anche questa piccola modifica di un solo articolo andava chiaramente, e forse con gli emendamenti che sono stati presentati almeno qualche rimedio lo abbiamo trovato, a modificare l'essenza stessa della nostra democrazia, trasformandola da una democrazia liberale in una democrazia plebiscitaria, autoritaria, come ho provato a dimostrare in questo mio intervento. per cui io naturalmente ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Dadone con molto piacere e spero che questo sia un po' un ingresso del Movimento 5 Stelle nel club di quelli che sostengono la democrazia liberale, la democrazia rappresentativa, perché vede, sempre tramite il Presidente, onorevole Dadone, noi abbiamo perso qualche giorno fa un importante scrittore israeliano, Amos Oz, che ci ha lasciati e che ha scritto un libro molto bello che si chiamava Contro il fanatismo, che io consiglio a tutti e sempre tramite il Presidente, anche a lei onorevole Dadone, dove c'è una bellissima frase che parla del compromesso, è una parola che a noi suona male, suona negativa, uno che scende a compromessi, però Amos Oz dice delle parole illuminanti, perché dice che la parola compromesso è sinonimo di vita e dove c'è vita ci sono compromessi, nel nostro vivere quotidiano non possiamo mai, giustamente, avere un'opinione e andare giù come dei panzer, ignorando chi ci sta intorno e questo dovrebbe valere ancora di più dentro quest'aula. Dove c'è vita ci sono compromessi, dice Oz, e dice il contrario di compromesso non è integrità, è nemmeno idealismo, è nemmeno determinazione o devozione, il contrario di compromesso è fanatismo, è morte. A me viene da dire il contrario, il compromesso non è integrità, il contrario del compromesso non è l'integrità, il contrario del compromesso è l'integralismo. Allora tenere quest'aula, rispettarla profondamente, ancora come ha detto la mia collega Iole Santelli, rispettarla, entrare a ragione, io spesso penso che in questi scranni c'è stato seduto Giacomo Matteotti e penso a quale sia la responsabilità di stare qui dentro. Allora se guardassimo a quest'aula non come un covo di banditi, e non voglio dire che non ci sia stata gente che ha sbagliato, ma non sono stati all'altezza di quello che era il loro compito. Io credo che il titolo di onorevole sia un titolo che avete bistrattato e che invece dovremmo recuperare, che dovremmo utilizzare con grande rispetto, perché onorevole non è veramente un titolo, onorevole è un monito. Onorevole significa ricordati che devi essere all'altezza di questo tuo compito. Ricordati che l'articolo 54 della Costituzione dice che devi svolgere questo tuo compito con disciplina ed onore. Quando qui dentro mi chiamano onorevole non è un modo che mi serve a farmi gonfiare le piume, anzi serve a ricordarmi di essere all'altezza, di essere onorevole, di essere all'altezza di questo compito così alto, il più alto che può toccare un cittadino. E allora io ero molto preoccupato, cari colleghi del momento 5 stelle, perché avevo, e ho ancora un po' di paura che qualcuno voglia toccare questo così delicato bilanciamento di poteri, di equilibri e la vera democrazia che sta nella delega, nella stragrande maggioranza dei casi. Questo noi non possiamo toccarlo. Io voglio dire anche a nome del mio partito che noi, come vedrete, avremo un atteggiamento super responsabile e apprezziamo che siano state accolte le nostre osservazioni che sono parte del nostro DNA e come ho detto sono molto contento che voi facciate questa molto visibile marcia indietro e spero che sia definitiva, perché questo aiuterà anche nel prosieguo dei nostri lavori, nei rapporti e aiuterà la democrazia italiana. Però io voglio chiarire molto bene che questo compito di sentinelle, questo compito di attenzione al bene supremo della democrazia, quello per il quale ci sono stati ragazzini di 18 anni che si sono fatti uccidere durante la resistenza, per regalarci una libertà che loro non hanno neanche mai potuto assaporare e che noi qualche volta forse diamo per scontati. Questo compito di guardiani, di sentinelle della democrazia e della Repubblica che ci è stata consegnata dalla lotta partigiana e che ci è arrivata di generazione in generazione è un ruolo che noi continueremo a svolgere in modo inflessibile utilizzando tutti gli strumenti democratici. Perché è connaturato al nostro essere democratici e se c'è una ragione per la quale sono iscritto e sono dirigente del Partito Democratico è perché so che dentro il DNA del mio partito ci sono questi valori e ci sono questi contenuti, questa consapevolezza di aver avuto in prestito dalle generazioni precedenti un bene supremo che ho il dovere di restituire, se possibile migliorato, alle generazioni che verranno dopo di me. E senza il rischio che la sovranità popolare esca fuori da quest'Aula e si sposti per dire a Milano, io sono milanese ma neanche per ragioni di campanile vorrei mai che una società a responsabilità limitata fosse in grado di raccogliere 500.000 firme come fa con la gestione di alcune piattaforme sulla cui sicurezza abbiamo ancora qualche dubbio, ma insomma facciamo che la sovranità popolare resta qui, facciamo un patto con i colleghi del Movimento 5 Stelle che le decisioni si continuano a prendere qui, che si collabora, come stiamo dando dimostrazione di fare, ascoltandosi, che è poi un modo di fare molto diverso da quello che abbiamo visto nella legislatura precedente, nelle quali appunto oltre a voler aprire l'Aula con una scatoletta di tonno, la si è umiliata e vilipesa in molti modi. Io ero seduto al posto del sottosegretario nella scorsa legislatura e molto spesso mi trovavo da solo a essere seduto lì in mezzo a un sacco di deputati di opposizione che cercavano di bloccare il lavoro dell'Aula, ci sono stati momenti in cui non si è potuta votare la fiducia perché fisicamente qualcuno lo impediva, ci sono stati occupazioni delle commissioni, c'è stato qualcuno che è salito addirittura sul tetto del palazzo, mettendo sul tetto di questo palazzo che è la casa di tutti, la bandiera di una parte di noi. Allora speriamo che tutto questo sia nel passato, che forse dopo una legislatura di rodaggio questa esperienza di governo faccia bene e che le cose vadano meglio. Ricordiamoci appunto che abbiamo l'obbligo di rispettare la Costituzione, di rispettare la Repubblica, possiamo ammodernarla, dobbiamo ammodernarla, ma mai neanche provare a violentarla, a trasformarla come avete tentato di fare e come pare, e me ne compiaccio molto, avete capito che non si può fare, non si deve fare e non farete. La ringrazio onorevole Scalfarotto, onorevole Lupi, prego. Grazie signor Presidente, mi permetto attraverso lei di fare i complimenti all'onorevole Scalfarotto che è riuscito a utilizzare precisamente tutto il tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.